Nel mondo ci sono più di 250.000 bambini soldato e quasi la metà sono bambine, allora se tutti insieme li riuscissimo a mandare a scuola non solo avrebbero un'istruzione, perché lì imparerebbero a leggere, a scrivere, vabbè tutto quello che si fa a scuola, ma soprattutto avrebbero cibo almeno una volta al giorno, starebbero lontani dalla guerra, dalla violenza, dalle armi, starebbero lontani dalle malattie, dalle infezioni, allora se a questi poveri bambini soldato, burai bambini soldato, gli leviamo il fucile dalle mani e gli diamo una bella matita, tipo questa, anche più piccole, queste qui bellissime che ha fatto Save the Children, magari tutti insieme possiamo provare a riscrivere il loro futuro, se viene bene il loro futuro magari viene meglio pure il nostro. Ci vede la matita di Save the Children, è bella questa, più piccole gli diamo ai bambini così, no, se è bella.